Ciao a tutti, stiamo andando a compiare un regalo per Vane. Il microfono e la torta, perché oggi è il suo compianno e fa otto anni. E poi andiamo, un altro giorno andiamo con i suoi amici, dove? Ai gonfiabili. Ai gonfiabili, ai gonfiabili. A giocare. A giocare con le palline, poi c'è lo scivolo. E' bellissimo quello scivolo. Ci vediamo dopo al negozio dei giocattoli. Ciao, siamo arrivati, guardate lì. Adesso andiamo a comprare la torta Vanessa, che oggi è il suo compleanno. E dopo andiamo a comprare i giochini. Sei pronta per i giochini? Sì. Ma ne vuoi uno anche tu di giochino? Sì. E che giochino vorresti? Dopo ci pensiamo. Mi metto un po' di burro cacao. E' il burro cacao? Sì. Mettilo. Ma sei entrata lì? Sì. Guardate, stiamo entrando un po' così. Dove andare sulla roba. Dove non girare. Wow, una giocatta! La giostrina? Sì, voglio provarla. Dove andare sulla giostrina. Che bello! Guarda, lì dietro! Le palline! Le palline! È uno scivolo! Guarda, che meraviglia! Aspetta, perché ci saranno le palline? Eh, lo so, amore. Però adesso è chiuso, non possiamo entrare. E dopo? Non lo so, poi vedremo, ok? Adesso andiamo a scegliere la torta, dai! Ok, vedo. Quante cose buone! Quante cose buone! Cosa proviamo? Adesso andiamo a vedere anche le torte che ci sono. Sì! Aspetta, aspetta, aspetta! Cos'è visto? Lì non c'è un pasticcino. Eh, perché se lo sono già mangiato. Guardate la torta. Adesso facciamo scrivere il nome di Vanessa. Il nome di Vanessa. Auguri a Vanessa! Brava! C'è la torta. E pure... Guardi, fatto qui è mio! Fatto qui è per... Fatto qui è per... Fatto qui è mio! Fatto qui è per Vanessa. Fatto qui è per lei. Hai fatto la scorta. Auguri. Vediamo. Qua ci sono le candeline con su scritto Auguri. Qui otto anni. E abbiamo fatto aggiungere il nome. La torta. Abbiamo fatto aggiungere il nome. Auguri Vanessa. Qua sotto ha scritto Vanessa. Lo vedi? Sì! Adesso prendiamo i pasticcini, eh. E come fa a sapere il nome di Ani? Gliel'ho detto io. Ciao, siamo arrivati a Toys. Guardate lì! Guardate lì, che meraviglia! Questo è il nostro negozio preferito, vero Ani? Sì. Lo sapete perché adesso siamo qui? Perché compriamo il regalo per Vani e anche uno per me. Ma c'è tutto l'allestimento per Halloween. Che meraviglia! Aia! Aia! Guardate che bello! Io comprerei tutto, 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 tutto. Ascolta, amore, andiamo a cercare il microfono per l'Avane? Sì! Hai scelto questo, tu? Sì! La Croibaby? Come sappiamo che noi ce l'avamo già, vabbè, la comprono androsi, così ci sono due. Andiamo a scegliere adesso il microfono? Guarda com'è alta questa bambola, amore! È alta come te! Siete alti e uguali! Ma che bella! È bella, eh! È bella! Lo vorrei compiare! Andiamo! Eh? Andiamo! Lo vorrei compiare lei! Abbiamo scelto il microfono, guarda che è al contrario! Questo microfono è veramente carino. Ha un'asta, selfie, dove mettere il telefono, così mentre canti ti riprendi. Perché non ho buttato le bottiglie del sacchetti? Non lo so. Poi la mamma, quando sarò grande, quando fare il compagno, ero cinque anni, mi comprerà la bambola e la cosa per... Il mappamondo. Il mappamondo. Così conosciamo tutti i paesi del mondo, ok? Allora, Ani, ascolta, abbiamo finito. E' il mio peggicchio! Ah! Oh, ciao, ciao! Abbiamo finito, abbiamo preso i regalini che mancavano, la torta e i pasticcini. Possiamo andare a casa? Sì, ma dov'è la torta e i pasticcini? In macchina. Ciao! Ciao! Ci vediamo dopo in macchina! Ciao, siamo andando a casa e dopo gonfiamo i palloncini giù in tavenna. Ci vediamo dopo! Ciao amici! Anastasia non è riuscita a resistere, ha già aperto la sua crybaby! Guardate che bella! Guarda, Ani! E' il cucciolo! Aspetta! Bing! Fai vedere la tua crybaby? Wow! Quella unicorno! C'è tutto questo, cucciolo? Non lo so, amore! Poi a casa ci fai vedere tutto, ok? A casa il peccolo! Fa vedere! E qui dentro, guarda! Vedete che qui c'è a casa la pire? Eh, hai trovato il cucciolo? No, ancora non lo pire. Ah! Allora io vado a cà! No, ho trovato a te! Cos'è? Non vedo! Ah! Allora noi andiamo a casa e iniziamo a preparare la festa per Vanessa e facciamo una sorpresa! Allestiamo la taverna con tutti i palloncini e gli striscioni! Poi ci vediamo dopo! Bacio! Ciao! Appettate, appettate! Cosa c'è? Ho petto! Cos'è petto? Vediamo! Uno standino! Wow! Uno stand di panni! Guardate l'allettina! Guarda mamma! Che bella con l'unicorno! Ma che fortuna! Anch'io voglio la magliettina unicorno! Oh, che macciuccio! Sì, mamma mia! Oh, finalmente! Guarda! Guardate! Bellissimo! E poi le cappine! Ok! Possiamo andare a casa che ho fame? Sì, andiamo! Quando arriviamo a casa vi faccio vedere cosa mangio io! E poi la mamma! Ciao! Cioè, lei mangerà pane e nutella e io qualcos'altro! Ciao! Ciao! A dopo! Ciao ciao! Ciao amore! Siamo tornati a casa? Sì! Dopo le nostre spese matti di oggi stamattina! Però, colpiamo i palloncini perché è un po'? Adesso! Perché è un po'? Non andare a prendere vani! Esatto! Fra poco esce Vanessa da scuola e noi dobbiamo preparare la stanza per il suo compleanno! Almeno un pochino! Io ti do gli occhi! Sì! Ahia! Ma perché è un picchi sempre? Sì! Vai, 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 vai! Vanni? Sentite! È pazza! Allora, Vanni! Ok! Io compri un valutino! Vediamo un po' cosa abbiamo comprato stamattina! Sì! Ma siamo comprati un... Sì! Allora, abbiamo già fatto... Appa Gubi! Appa! Chi la vuole? Appa Gubi! Abbiamo già fatto confezionare i regali del Toys e quindi dobbiamo metterli qua, poi li metteremo in un'altra parte. Quindi abbiamo deciso che questo... Tu cos'è che volevi regalare la Vale? Ah, aspetta! Volevo regalare la benda! Tutti gli slime più la benda! Sì! E invece questi due sono da parte di Daniel, giusto? Ok! Poi i papà e i papà hanno fatto altro! Bene! Qua ci sono i regalini da parte del fratello e della sorellina! Ma non è che palloncini vuoi volerlo! Adesso noi dobbiamo fare questo invece! Dobbiamo aprire la ghirlanda con su scritto Happy Birthday e i palloncini! Dobbiamo confiare i palloncini da attaccare alla ghirlanda! Siamo pronte, Vanni? Sì! Sì! Mi voglio! Dobbiamo fare velocissimi perché tra poco dobbiamo andare a prendere la Vale! No, non ce la puoi fare! Ci voglio che la mamma lo rompe! Guarda che la rompi tu! Ma no, ho già fatto, Ani, guarda! Ok, vediamo un po' di cosa si tratta! Non ce la faccio più! Dai, Anastasia, se la rompi la ghirlanda non la possiamo più recuperare! Eta, da! Ole! Ecco! Ah, ma bisogna unirli! Com'è? Uh! Ah, no, aspetta! Wow, che bello! Piano, piano, piano! Che bello! Guardate! È tutto già unito così! Abbiamo anche degli spazi per poter scrivere qualcosa! Cosa scriviamo? Ma no, sono tutti attaccati! Meno male! Così adesso la attacchiamo da qualche parte! Sai io dove la vorrei attaccare? Lì! Sì, dove è? Happy Birthday! Sì, dove c'è scritto Happy Hour, noi ci mettiamo Happy Birthday! Mi facciamo vedere subito! Ecco, noi pensavamo di attaccarlo qua! Cosa ne dite? Vediamo un po' come sta! Ani, prendilo dall'altra parte, in fondo di qua! Ani, sei al contrario! Prendilo da questa parte, Anastasia! Cosa ne dici? Ti piace? Eh? Così? È bellino, vero? Così? Lo vorrei attaccare un po' più in alto! Eh, qua sopra, allora! Qua in alto? Eh? Sì! Lo attacchiamo poi in alto? Cosa ne dite? È bellina come idea? Non è nessuno! È sotto palloncini! È sotto mettiamo un palloncini! Sì, è sotto c'è! Va bene, allora adesso mi ingegno per attaccarlo dall'altra parte! Ma io l'ho fatto più in alto! Ci vediamo tra pochi minuti, ciao! Ciao! Abbiamo finito, abbiamo preparato! Facciamo vedere? Mamma, girate la camera! Sì? Guardate, abbiamo attaccato la ghirlanda con su scritto Happy Birthday! Do you? E noi abbiamo aggiunto piccolo amore Vanessa! E abbiamo attaccato i palloncini! Vi piace come idea? Sì! Anastasia ha deciso di attaccarli lì e devo dire che la sua scelta è stata giusta! Vero amore? Sì! Sei stata bravissima! Ascolta, Ani! Adesso manca solo una cosa! Cosa? Andare a prendere Vanessa! Sta uscendo da scuola! Andiamo a prenderla! Ci vediamo dopo in macchina con Vanessa! Ciao! Abbiamo aggiunto anche i regalini da parte di suo fratello e di sua sorella, Anastasia! Guardate che meraviglia! Mamma mia, non vedo l'ora che arrivi Vanessa! Speriamo che la sorpresa le piaccia! Ani! Vieni! Ho aggiunto i regalini sul tavolo! Cosa ne dici? Vieni a vedere! Vieni a vedere se l'idea ti piace della mamma! Qua sopra! Li vedi? Belli! Guardate! Wow! L'ho appetta prima! Che bellina! L'ho appetta prima in macchina! Ti piace allora aver messo anche i regalini? Sì! E di Dani! E i tuoi? E di Dani! Ok! A dopo! Ciao! Ciao! Ci vediamo dopo in macchina con Dani! Mamma! Ti oggi è il mio compleanno e io ho anche tagliato i capelli! Mamma? Sì! Ciao! Anastasia aveva detto che avremmo fatto il video a Vanessa quando sarebbe uscita da scuola! No! Il video è la diretta! E la diretta la facciamo dopo! Ed eccoci qua! Dai Vane! Dopo ci saranno delle sorprese per te! Sei contenta? Sì! Sei curiosa? Mhm! Io e Dani abbiamo lavorato molto eh! Stamattina e anche oggi pomeriggio! Sì! E oggi è scuola! Anni saluta! Ciao! E oggi è scuola i compagni mi hanno fatto pure gli auguri! E abbiamo cantato a tanti auguri a te! Tanti auguri a te! E sono felicissima perché i miei compagni mi hanno detto che è un taglio bello! E poi perché è scalato! Così eh! E poi mi hanno... Cioè! E poi anche la maestra mi ha detto che è un taglio bello! E poi mi hanno... E poi... Cos'è che volevo? Ah! Sì! E che non vedevo... Sempre a scuola pensavo, pensavo che dovevo tornare a casa e guardare e aprire tutti i miei regali che arrivavano ai nonni ed ero felice! Ed è... E sono felicissima! Quindi... E stagato cosa facciamo, Vane? Alla festa Lagorà! E cos'è Lagorà? È un... È un posto divertentissimo... Ma no! Sì, pure io voglio i miei compagni hanno! Esatto! È un posto divertentissimo dove ci sono... Cioè... I gonfiabili! I gonfiabili! Ci sono degli scivoli! Delle strutture con le palline dove... È un campo da calcio però per... Cioè... Per maschietti! Sì, però è gommoso! Sì! Sono gonfiabili, Vane! E con chi lo facciamo il compleanno sabato? Con i miei compagni! E quindi ci divertiremo un sacco! E faremo un video anche in quell'occasione, ok? Sì! Va bene, siamo arrivati a casa, amore! Ci vediamo dopo! Saluta! Ciao! Mamma, saluta! Ci vediamo dopo con l'apertura dei regali! E della torta! Gna 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 gna! Ciao, Guido! Gna 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 gna!